E finalmente siamo tornati con le wifi di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, Battle Factory! Sto usando un team composto da Silvalli, normale, Geridos, finalmente un Dragapult! Grimmsnarl, non mi ricordo come si chiama, e Whimsicott. Siamo contro XXPredzXX, chiamo Chandelure, Whimsicott, Togetic, Excadrill, Hydreigon e Geridos. Si chiama il Pokémon Chioio, Dracovish. Ok, allora, per questo episodio ho deciso di provare a non tagliare i momenti in cui scelgo le mosse, i Pokémon, eccetera, eccetera. Inoltre, sì, ho finalmente aggiornato la mia scheda allenatore e sto registrando questo video praticamente non sapendo cosa sta succedendo. Perché? Perché queste lotte wifi le ho registrate tipo due settimane fa. In ogni caso, l'avversario manda in campo Chandelure e Togetic, mentre io mando in campo Grimmsnarl e Dracovish. Ora vedrete quanto è forte Dracovish se riesce a fare qualcosa, ovviamente. Allora, provo subito con bruciapelo su Togetic, perché esperienze passate mi hanno avvertito del fatto che, hey, Togetic e Togekiss possono trollare parecchio. Inoltre, volevo provare a mandare KO Chandelure il più in fretta possibile perché mi conveniva. Questo non era un team di Stortozona, o almeno non sembrava un team di Stortozona, quindi poteva avere rapid scambio, scambiando appunto sto la scelta su Grimmsnarl, cosa che avrebbe reso Grimmsnarl praticamente inutile, visto che sei dagli schermi. Quindi bruciapelo su Togetic, poi guardate quanto fa branchio morso. È stab, abilità e l'effetto della mossa. Non è molto efficace, ma ha fatto più della metà dei punti vita ad Hydreigon, ok? Ora, riutilizzo branchio morso perché magari l'avversario poteva cambiare Pokémon. In ogni caso sono bloccato io stesso in branchio morso e quindi l'ho usato un'altra volta, fine. Lui utilizza protezione, mentre con Grimmsnarl appunto uso schermo luce. Togetic è un attaccante speciale, di norma, Hydreigon impara mossi fisiche ma di norma è speciale e quindi sto a posto così. Allora, Magibrillio sfortunatamente però colpisce Grimmsnarl facendogli un brutto colpo, quindi vanificando un po' l'utilizzo di schermo luce ma oramai utilizzo anche il riflesso perché in realtà, in realtà, ci ho pensato un po'. Avrei potuto usare tuononda su qualcuno ma volevo provare a fare una cosa che se non sbaglio ho fatto dopo questa battaglia, ok? Ovviamente tutto questo dalla mia memoria, quindi vediamo se ho detto bene o no. In ogni caso sono sempre più veloce di Hydreigon, branchio morso, anche senza brutto colpo, l'avrei mandato KO. E quindi ciao ciao Hydreigon. Ora, Togetic riutilizza Magibrillio, se non fa brutto colpo non manda affatto KO né Grimmsnarl né Dracovish, quindi credo di aver fatto abbastanza bene. E adesso li manda in campo chi? Ovviamente Geridos, l'ultimo Pokémon che ha scelto di mandare in questa battaglia. Ovviamente Shandellur sarebbe stato un suicidio, quindi ha fatto bene a mettere in campo l'altro Pokémon. Adesso, qui uso finalmente tuononda su Togetic. Togetic probabilmente ha Evol Condensa, visto che non è un Togekiss. E, e, decido di mandare in campo Silvalli, pensando, ah, ha visto che Grimmsnarl è fastidioso, quindi deciderà di attaccare un'altra volta con Magibrillio e quindi non conviene avere un tipo Drago in campo. Inoltre, Geridos poteva provare a colpire Dracovish, ma non credo abbia mosse particolarmente buoni contro Dracovish, quindi, boh, in ogni caso, il mio piano era far mandare KO Grimmsnarl. E solamente per un motivo, volevo mostrarvi come funziona questo Silvalli, ok? Seriamente, l'unico motivo per cui ho scelto di fare quello che vedrete a breve, è perché, appunto, volevo mostrarvi come funziona questo Silvalli. Ha un BG normale. È di tipo normale. Indovinate che mossa ha Silvalli. In ogni caso, Dragapult di tipo Spettro. Dynamaxizza e provo subito con Dynacciaio. Acciaio, se si chiama così non mi ricordo il nome della mossa, in ogni caso sì, quello. Su Togetic, perché nel caso non fossi riuscito a mandare KO Togetic con Esplosione, BG normale, Stabata, beh, l'avrei mandato. È maschio, ok? KO per forza con quell'attacco. Lui però adesso fa una cosa che mi sarei dovuto aspettare. In effetti, io di norma quasi ignoro le Dynamax, perché non mi ricordo mai di usarle e non mi ricordo mai che, ehi, l'avversario può usare Dynamax. In ogni caso, Dynamax finalmente entra in campo. Dragapult Dynamax. Che è glitchato, eh? Oddio, non è un glitch, è un bug. Eh, c'è una differenza, vabbè, in sintesi c'è un errore di rendering del modello 3D gigante di Dragapult, che non hanno ancora fixato. È puramente estetica come cosa, però mi dà un po' fastidio. Lui fa Dynamaxizzare Geridos. E adesso posso parlare. Ehm, ribadisco che di norma sto zitto durante le trasformazioni, perché il verso del Pokémon è più alto di qualunque audio del mondo, e anche le mosse, in effetti, sono abbastanza alte. Non mando K8 Togetic, ma mi aumento la difesa. Ovviamente avevo calcolato l'aumento di difesa, e invece no, me ne ero completamente dimenticato. Anche se alla fine mi ha aiutato un po', visto che Geridos è un attaccante fisico. Comunque, vado con finalmente esplosione Biju normale. Questo fa danno, fa parecchio danno. Non ha Dragapult in quanto tipo spettro, ma fa... Boom! Non manda KO Geridos, visto che ha un sacco di PS, adesso che è Dynamaxizzato. Però almeno finisce di mandare KO Togetic. Molto probabilmente non avrei mandato giù Togetic con solamente esplosione. Ok? Quindi, comunque, avrei dovuto attaccare qualcuno. Preferivo attaccare Togetic, quindi stava a posto così. Dracovish va in campo. Lui ha l'ultimo Pokémon, ossia Shandelure. Qui, se non sbaglio, prova a fare qualcosa con Geridos. Però alla fine, suppongo, sappiate già, come finirà questa battaglia da quello che si può vedere. Geridos ha pochi punti vita. Non ha mosse super efficaci su Dragapult. Almeno non credo le abbia o le impari. Dracovish è più veloce di Shandelure. In ogni caso, gli avrei mandato KO dei Pokémon. Qui forse ho fatto male a mirare Geridos. Avrei dovuto mirare Shandelure, visto che, beh, se avesse fatto quello che ha fatto, ossia Dynabarriera, avrei provato a colpire Shandelure, mandandolo forse KO. In ogni caso, alla fine, non cambia più di tanto la cosa. Branchio Morso. Ciao, ciao Shandelure. Non so che strumento aveva Shandelure. Avesse Shandelure la frase in italiano. Perfetto, quella. Però non aveva foca al nastro, quindi ciao, ciao. Due contro uno. Non poteva fare tanto contro di me. Io non potevo cambiare mossa, quindi vado per forza per Branchio Morso. Uso Dynavuoto, perché mossa stab. Lui prova con Dynasisma. Dynasisma cosa faceva? Aumentava la difesa. Ah no, aspetta. Cosa faceva? Difesa? Difesa speciale. Vabbè, ci ha provato. In ogni caso, Dynavuoto, che è fisico, fa boom. E ciao, ciao Geridos. E vinco la prima battaglia. Quindi, ciao Geridos. Mi fa davvero molto, molto strano commentare battaglie senza fare tagli in questo modo. Però, ditemi che ne pensate, ok? Anche perché forse questa sarà... non dico l'ultima, ma forse l'ultima sessione giocata in questo modo. Vi spiego il motivo, però prima introduciamo il team avversario. Eccolo là. È fastidioso? Io odio Wimsicott, ma ho deciso di provare a portare il mio Wimsicott in questa battaglia. Ora, che intendevo dire con questa potrebbe essere l'ultima volta in cui faccio una sessione così? Vorrei trasformare questo formato di video in live. Quindi, in sintesi, io non registro più come ho fatto fino ad ora, ma ci sarà semplicemente un'ora a settimana dove faccio lotte Wi-Fi lasciando tutte le Wi-Fi sul canale. Punto. Ok? Solo che il live non parte dal live numero 1, parte dal live numero 6 perché sarebbe tecnicamente la sesta parte di questa serie. Quindi, vabbè. Comunque, mando Wimsicott e Dragapult. Lui manda Arcanine e Duraludon. Ok? Riuscirò finalmente a non sbagliarmi oggi a pronunciare i nomi dei Pokémon, chi lo sa. Allora, cosa uso qua? Non ho visto cosa ho scelto per Wimsicott. Comunque, stavo vedendo se cambiare i Pokémon. Ho deciso alla fine di togliere Dragapult. Ce la farò. Ripeto, forse ce la farò. Dimenticandomi che però Duraludon può imparare Fulmine. Questa è una cosa che non mi ricorderò mai. Seriamente, Duraludon impara Fulmine. Duraludon impara Fulmine. Però almeno a basso l'attacco di Arcanine. Non so che tipo di Arcanine questo sia, visto che ci sono 700 miliardi di tipi di Arcanine. C'è un Arcanine supporto, fisico, c'è speciale, c'è quello che perde il tipo. Ce ne sono troppi, seriamente. Il più comune adesso credo sia quello da supporto, ma dato che non posso leggere il set durante la battaglia, potete ben capire la mia attitudanza, insomma. In effetti Arcanine è una mia spina nel fianco insieme a Wimsicott. Uso vento in coda con Wimsicott. forse avrei dovuto fare altre cose. Comunque, scommettendo sul fatto che di norma appunto Arcanine si usa come supporter, decido di usare vento in coda e non scappare via con Wimsicott. Anche se in realtà l'avversario ha fatto immensamente bene ad usare Urlo Rabbia perché mi ha rotto il fuoco al nastro e mi manda K.O. in un colpo solo, ovviamente, e si aumenta anche la difesa che male non gli fa. Anche perché se non ricordo male Arcanine non ha difese così orrende quindi aumentargli la difesa lo rende ancora più pericoloso insomma. In ogni caso qui cosa faccio? Mando in campo Dragapult perché perché mando in campo Dragapult? Non ne ho la più pallida idea del perché io abbia mandato in campo Ah ok, sì. Ho provato ad usare Spettro Tuffo su Duraludon per evitare una mossa Dynamax di tipo Drago su Dragapult il punto è che non ricordo cosa succede adesso provo ad usare Cascata su Arcanine o altro ok, sì. Cascata su Arcanine perché Arcanine è una spina nel fianco ve l'ho già detto e speravo di essere più veloce di Duraludon visto che ricordo gli strumenti scelta non sono attivi durante la Dynamax citazione sì, è strano lo so dovrei dire la Dynamax ma non importa per favore connessione perfetto lui invece ritira Arcanine in realtà ha fatto parecchio bene manda in campo il suo Wimsicott perché figuratevi io adoro lottare contro Wimsicott comunque sparisco improvvisamente perché voglio provare ad evitare ripeto un Dynadrago Garedos usa cascata non fa praticamente niente a Wimsicott lui usa una dragone e fortunatamente almeno un predict l'ho fatto bene ora cosa ho usato mi sono distratto un secondo e non ho visto vabbè adesso vedremo insieme allora comunicazione in corso attendere prego capito perché di norma taglio queste parti qua esatto quindi ditemi che ne pensate va bene che bei occhiali che ho sì ok oh perfetto allora Dynamaxizzo Garedos a quanto sembra ripeto non ricordandomi che Duraludon può avere mosse elettriche io giuro che la prossima volta che trovo un Duraludon se non mi ricordo che ha mosse elettriche mi non lo so non posso dire mi radio i capelli perché sono già pelato ma vabbè in ogni caso ritorno dall'altra dimensione Dynaget per provare a mandare giù Wimsicott e in effetti lui non usa mosse di stato non ha attaccato forse ha fatto qualche altra cosa qui infatti e anche adesso a quanto pare non ho ben capito che mossa ha provato ad usare con Wimsicott forse per pietà mi ha lasciato sconfiggere Wimsicott Dynadragone è forte manda K.O. Dragapult avrei dovuto in realtà non mandare in campo Dragapult ma ahimè la mia intelligenza era tale vabbè ciao ciao Dragapult mi sono rimasti solo due Pokémon indovinate un po' come va la battaglia ma in ogni caso guardiamo ok guardiamo oh mio dio questa battaglia è parecchio lunga in effetti devo parlare per altri tre minuti circa yey vabbè allora lui manda in campo adesso Arcanine è la scelta migliore ho due attaccanti fisici contro o meglio lui ha due attaccanti fisici contro quindi abbassare l'attacco dei Pokémon avversari era la scelta migliore avrei fatto anch'io così fossi stato più intelligente con non lo so lo scegliere i Pokémon più che altro volevo provare ad usare Wimsicott mi ricordo questa cosa perché per tutte le altre battaglie della sessione ho usato Grimsnarl e volevo vedere ma perché Wimsicott è così usato perché è così buono ci ho provato e ho fatto miseramente schifo quindi se tra Wimsicott e Grimsnarl preferisco di gran lunga Grimsnarl ora arriveranno commenti della serie ah Tonks ma in realtà Wimsicott è meglio però vabbè chi lo sa Dynaflusso con attacco diminuito non manda K o Arcanine mamma mia non gli faccio praticamente nulla metto almeno provo a mettere la pioggia per aiutarmi in qualche modo però ribadisco non ricordandomi che Duraludon può imparare mosse elettriche che se non sbaglio adesso usa adesso vediamo un po' no però sgranocchio seriamente questo Silvalli è abbastanza particolare il suo compito principale è se ci sono Pokémon di tipo Spettro provare a attaccarli con sgranocchio suppongo a Monito che lo fa switchare diminuendo l'attacco e attacco speciale l'avversario però non cambia niente lui prova ad attaccare Silvalli mi fa abbastanza run mi scotta ed è una cosa che in effetti mi dà un po' di problemi provo con protezione anche se qui non ho tante speranze di vittoria lo ammetto senza inoltre vento in coda dovrei essere più lento con Geridos quindi Duraludon dovrebbe essere più veloce adesso vediamo se ho ragione oppure no lui ritira Arcanine perché oltre il danno anche la beffa ripeto ecco Togekiss un'altra mia spina nel fianco della serie se volete vincere contro di me usate Togekiss Wimsicott Arcanine Duraludon e basta alla fine sono 4 Pokémon ok vabbè sappiate che ricordo sappiate che ricordo vabbè beh ricordo però che non sono io a scegliere il team che uso per quella sessione ok scelgo un team provo ad usare quel team fine quindi magari c'è un bad matchup vabbè chi lo sa in ogni caso qui non posso fare praticamente più niente è vero che c'è la pioggia ma Geridos non riesce a reggere niente Silvalli è scottato quindi tanto per trollare un po' uso esplosione perché mi andava cascata un'altra volta no aspetta cosa faccio adesso qua cascata su Togekiss vabbè sì potevo provare ad usare protezione ma in ogni caso non sarei riuscito a mandare giù Duraludon quindi a quel punto faccio boom baby con digio normale ma scottato quindi danno lo faccio ciao ciao al mio stesso Geridos tanto comunque l'avrebbe mandato giù Duraludon almeno così io ho mandato giù al 100% Togekiss e ho perso la battaglia 2-0 ma vabbè ok sì lo so ho fatto qualche errore ho fatto parecchi errori ho fatto in realtà male a portare non tanto Duraludon Duraludon non tanto Wimsicott quanto Dragapult forse avrei dovuto portare qualcun altro in ogni caso questo è il team ripeto se volete usarlo il codice è qua sotto e noi ci vediamo con forse un'altra sessione oppure un live delle wifi di Pokemon Spada e Scudo Battle Factory ricordo in ogni caso vi avviserò sia in post community per i live sia per sessioni normali però quello nel mio server discord che ricordo è sempre in descrizione detto questo io vi saluto e noi ci vediamo ciao meh ciao ciao ciao